E' questa cosa dei telefonini ai concerti, ma tu cosa ne pensi? Io sono a favore, nel senso che uno deve essere libero di ascoltarsi o guardarsi un concerto come meglio crede. Personalmente se andassi ad un concerto magari non userei il telefonino per riprendere le canzoni, a parte quella canzone magari famosa che tutti riprendono di quel determinato artista, però me lo vorrei godere, però ognuno è libero di ascoltarselo come vuole. Poi per me, che insomma sono un'autogestione, è tutta pubblicità, uno riprende più parti del concerto, mi tagga su, che ne so, sui social e io poi dopo ricondivido le storie, quindi è pubblicità, no? Nell'era dei social e anche quello, poi un concerto anche con le migliori strutture, i migliori strumenti tecnologici non sarà mai bello sul telefonino o ascoltato sul computer come quando lo vai a vedere dal vivo, però ecco non capisco, rispetto, ma non capisco tutti quelli, ah ma voi dovete godervi il concerto senza il telefonino, ma chi se ne frega, cioè nel senso, ma che la gente faccia un po' quello che vuole, tanto alla fine le persone se vogliono sono ricettive, se tu dici o canti una cosa le persone la capiscono, sia che abbiano in mano un telefonino, sia che non ce lo abbiano, quindi per me potete usare i telefonini tranquillamente dal vivo.